Benvenuto nella Cyber Academy di Trend Micro, il posto giusto per imparare ad usare Internet in modo sicuro e divertente. In questo episodio imparerai una nuova tecnica di difesa, l'autenticazione a due fattori, uno strumento per aiutarti a proteggere le tue informazioni online. Tenerle al sicuro significa impedire che qualcuno entri nel tuo account per rubarti crediti di gioco, foto o informazioni personali. Se hai superato la sfida delle password, sai già che una password forte ti aiuta a proteggere tutte le tue informazioni. Le password forti sono un lungo mix di lettere, numeri e caratteri speciali. Ma le tue informazioni sono ancora più sicure se usi un altro strumento. Si chiama autenticazione a due fattori o 2FA. 2FA significa che ti servono due fattori o due cose per accedere al tuo account. È come avere due serrature sulla porta di casa. Serve per accertarsi che chi entra nel tuo account sia davvero tu. Puoi attivare 2FA nelle impostazioni di giochi, app, siti e dispositivi. A volte, 2FA viene chiamata anche verifica in due passaggi. Ma è la stessa cosa. E se non riesci a trovare le impostazioni di 2FA, chiedi aiuto a un adulto. Una volta attivata 2FA, ecco come entri nel tuo account. Primo, digita la tua password forte. Quindi inserisci il codice di verifica. È un codice che ti viene mandato per SMS o email. Una volta inserito, sei dentro il tuo account. Anche se qualcuno conosce la tua password, non potrà entrare nel tuo account senza il codice di verifica. A volte, al posto di un codice di verifica, puoi scannerizzare l'impronta del tuo dito o la tua faccia. Si chiama biometria. Significa usare una parte del tuo corpo per provare che sei davvero tu. Notevole, vero? Dunque, ricorda. L'autenticazione a due fattori o 2FA è uno dei modi migliori per proteggere le tue informazioni online. La trovi nelle impostazioni di molti giochi, app e dispositivi. Per usarla, hai bisogno di una password forte e di un codice di verifica. Oppure puoi ricorrere alla biometria, cioè usare una parte del tuo corpo al posto di un codice di verifica. Puoi sfruttare le tue nuove cyberabilità attivando 2FA su ogni gioco, app e dispositivo che usi. E puoi anche mostrare agli altri come farlo. Ora hai tutto quel che ti serve per accettare la sfida della 2FA. Fai il quiz sulla 2FA e per aumentare le tue abilità di cybersicurezza, guarda il prossimo episodio di Trend Micro Cyber Academy.